Monti Lepini La vita della comunità si svolge nella bella piazza 6 Gennaio, risalente al 1700, in stile barocco, con le sue ampie scalinate e il suo palazzo baronale. Due grandi fontane fanno da cornice all'ambiente. Altri luoghi di culto sono la chiesa di San Leonardo e San Terasmo, la cappella di San Antonio da Padova, Il museo è dei Monti Lepini, gioiello di questo caratteristico borgo. Sono esposti 400 quadretti che raccontano nomi e soprannomi degli abitanti di Rocca Gorga. Suggestiva è la stanza delle ruote in cui scorrono le immagini di un passato ormai lontano. In un'altra sala si trovano le capanne e gli attrezzi dei pastori e contadini. Il museo racconta i legami di una comunità che rivive tra passato, presente e futuro. La ludoteca, il centro anziani, il circolo sportivo, la villa comunale, costituiscono il punto di forza della comunità. L'atmosfera suggestiva di Rocca Gorga e il passaggio circostante attira da anni la curiosità di migliaia di visitatori. Un'occasione da non perdere.